Musica Musica Grazie a tutti E per questo ragazzi io direi di andare a giocare Vediamo un pochettino come ce la capiamo ragazzi Mamma mia ragazzi Comunque ho scoperto ragazzi Stavo un attimo guardando il mio video E ho messo per sbaglio la velocità del video a 0.5 Che è lentissimo Ho scoperto la intro ragazzi Una figata la intro La intro corta Quindi magari dopo ve la faccio sentire ragazzi È veramente bella Devo passare il volume ragazzi Se no non mi sentite poi Sono partito un po' male Però questa casa qua è nostra Dopo ragazzi a fine video vi faccio anche sentire la mia intro Se sono stati in questo titolo lo vedrete E ascoltiamo la intro lenta Perché è una figata ragazzi Allora io non voglio rischiare troppo però Un po' bisogna sempre rischiare Solo per lo stato Se sta in un posto non è divertente E perché così però me la sto rischiando un po' troppo Mamma mia quello lì ho colpito proprio Mamma mia quanto sto colpendo quello lì Un po' vuole rompere le scatole eh Sto bo vuole un po' rompere Oh no Stiamo attenti ragazzi Stiamo attenti Stiamo attenti Stiamo attenti Ti conviene stare molto molto attenti Meg non venire qua Ok già 5 persone venite Non le copie non le perdiamo Allora Dai 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 No no ragazzi No La tanto non serve molto comunque Perché Meg dopo E se li soglia ulti è ancora comunque vivo Allora Allora ragazzi Mi ricordo magari questa serie in live È l'indirizzo Molto bene A me non li soglia ulti No ragazzi io muoio Muoio no Come ne ferono ulti Andarne d'osso Ok ragazzi Era abbastanza scarso questo qui Ok Dai Mamma mia che win Che win Contro uno che era 11 di power up Ed Xmax Vince la partita Prima vinta Nel chill ragazzi Vediamo quanto ci si mette A droppare il ladder Ragazzi Mamma mia Vediamo un po' Mica male La doppia XP Molto molto bene ragazzi Si ha messo molto bene Muy bien Muy bien ragazzi Sono molto molto felice Vai ragazzi Allora Prossimo match Next match Vediamo un pochettino Come ce la possiamo cavare E appena si muove Ok dai Va bene No i kit non li ammazzo I kit è impossibile I kit ragazzi è impossibile Devo stare molto Stare molto al centro Eh no Ok Un dynomax si può fare Un dynomax si può mettere Tranquillamente Basta essere Fortunati che venga Di quattro Scorreti Ci sono Ovviamente Ti accorgi Perché sono sfortunato Con la nostra cosa Oh no Non so perché Mi sento che droppo Mi sento che droppo Non so perché Allora Devo farmi la voce veloce Così posso scappare In un eventuale rischio Di essere Ok Mi sono quasi fatto la ultima Mi manca veramente pochissimo C'è un dynomax Noi Lo prendiamo Il power up Perfetto C'ho la ultima Possiamo andare a ammazzarlo Se voglio Però è un rischio Allora Siamo 5 persone Quindi Superstar si rischia Non è che devo fare la ultima Velocemente Quando lui non si accorge Così posso ammazzarlo Lui i danni me li fa Però se io vi faccio la ultima Vado ad otto L'ammazzo Sto cazzo Però bisogna rischiare Mamma mia che rischio ragazzi Ho rischiato un bot No sono contro Vabbè ragazzi Io stavo incinto Sto nascosto E non c'è che sto qua Perfetto Sto qui Sto qui nascosto Sto qui nascosto Sto qui ragazzi Sto qui nascosto E perfetto E' perfettissimo Ragazzi E' perfettissimo Ok no è forte Ragazzi Sa giocare Possiamo dire che sa giocare Allora Ho spiegato un altro gadget Devo solamente Ragazzi Allora Questa qua bisogna giocarla bene Bisogna solamente Saperla giocare bene Ok la ultima Ho spiegato E' andata molto bene Allora Dove recuperare la vita Aspetta No 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 Ragazzi sto giocando malissimo Andiamo guardi Copriamo la vita Comunque Un po' più nemmeno Troverà a farire Ok ulti spregata Andiamo 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 Ah è molto forte Questo Mamma mia Che giocata Che ho fatto Mamma mia Che win Mamma mia Non ho ancora perso Finchè non perdo Il video va Finchè non perdo Può anche durare fino a domani Può durare ancora una partita Può durare fino a domani Che win Mamma mia Non so come ho fatto Qua abbiamo pure la bottiglia Più famosa YouTube Italia Ragazzi Mamma mia Che win Ho fatto veramente Una giocare a bestiaire Con la ulti Pensavo di morire Con la bomba Invece non sono morto Tipo di un pelo Allora quell'energia di click Io non le anzi Non le faccio Devo scappare velocemente Questa energia di qua Non mi piace Però io la posso scappare Tranquilamente Dai Non ho problemi Eh no Però c'è Come vuole rompere Le scatole Dai Tanto è rento Come non so cosa Come non è frega Questo è uno scato Cioè potevo cavarla Molto molto bene Questo qui mi ha rotto Le scatole Mi ha ammazzato Però io dopo due partite Devo già finire il video Vabbè però Ho fatto due win Raga ho fatto 20 coppie Meno quanto perso Quanto perso Tipo 4 Sì vabbè che reazione Tipo è Vabbè ho fatto Sì ho fatto 20 coppie Meno 4 Vabbè ragazzi Comunque Il video Abbiamo fatto Due win Tra l'altro La seconda win Ma in controline Ma in controline Ma in chi da pro player Ho fatto ragazzi Ovviamente una partita bestiale Sono soddisfatto Più o meno L'ultima partita Cioè devo fare qualcosa di più Però il video Abbiamo fatto Abbiamo fatto un bel video Comunque 16 coppie Potremmo fare molto di più Però vabbè E' anche vero Che il video Non può durare troppo Dato questo ragazzi Il video di oggi è finito Vi ricordo di lasciare un like Un iscrizione Una campanella Conviate il video Di tutti i nostri amici Seguite Mi sito anche su Discord Quindi non sentiamo Un link in descrizione Sostra un link in descrizione Per tentare Mi serve al Discord Prima link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per comprare Le mie t-shirt Per fare una piccola donazione Quarto link in descrizione E lo trovo qui sul sito Viola Ma magari questa serie In live Ve lo rivente a 30 Questo video è leggendario Sono contento Buon martedì a tutti Vi voglio bene Scrivermi nei commenti Come ho giocato Io raga Mi sento che Ho giocato bene Le prime due partite L'ultima Potevo fare qualcosa Di meglio Controli energetici Però mi stava rincorrendo Forse ho sbagliato Devo scappare senza prendere la cassa Non lo so Scrivermi nei commenti Ragazzi Che consigli vi date Non magari questa serie In live Lo rivente a 30 Vi voglio bene Ciao ragazzi Vi saluto A tutti i ragazzi Commentate E condividete il video A tutti i vostri amici Ciao ragazzi Vi voglio bene E vi ringrazio A questa sera